Grazie Lucio, grazie, abbiamo parlato tanto, benedetto tutto, io sono solo felice e onorato che due pilastri di tre mi abbiano voluto in questo viaggio del cuomo anche per restituirci alla vita, a rifaginare una qual... e quindi è un'occasione per cominciare un po' a respirare anche se le cose non sono felice, perché è che l'ho fatta purtroppo, però noi dobbiamo in un certo modo darci forza, sostenerci, questo monte che si è creato tra i giovani, perché quelle strutture sono luoghi di incontro, ma è necessario per la sosta, per la sosta o parli, e non bisogna avere più questo, chiunque abbia mai governato il piano ha una sua forza che deriva dalle associazioni, dalle eventi fresche, dalla voglia di organizzare eventi, e penso che ce ne avrebbero tutti i gusti e tutte le possibilità più opportune, quindi uno spazio che fa oggi pure l'animazione dell'anima e quello che è brutta. Allora, è anche complicato cominciare, credo che non c'è la cosa che avrei tiraci lo stupro, che possiamo anche tutti quanti noi accompagnare questo momento con le mani, e poi non ci rende, perché ci fermo appena, quindi, non c'è, è in più, meglio proviare questo momento con le mani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.